Trasferta delicata e difficile per la Giorgio Tesi Group che domani andrà a far visita all'Open Job Etis Varese di Gianmarco Pozzecco e dell'ex Ed Daniel. La squadra di coach Paolo Moretti si presenta a questo appuntamento con il morale alto per il bel successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato contro Pesaro, ma con alcuni problemi di organico. I bianco-rossi infatti devono ancora fare i conti con la mancanza di uno straniero in grado di sostituire Linton Johnson, ma prima devono essere risolti i problemi contrattuali con l'ex NBA e sono alle prese con l'infortunio capitato in allenamento a Daniele Cinciarini, brutta distorsione di una caviglia. La sua presenza a Masnago è in forte dubbio. A fare da contraltare a queste chiamiamole beghe ci sono l'arrivo di un combattente e gran trascinatore come Valerio Amoroso, che ha già fatto innamorare la curva, il risveglio di Daniele Magro sotto le plance e la sorprendente crescita del giovanissimo Davide Moretti. Fattori questi che possono dare una mano a Pistoia nel tentativo di operare un altro blitz ed autore. Di fronte però ci sarà una formazione lombarda tecnicamente molto valida, ma ancora troppo discontinua, che partita con propositi bellicosi si trova in una posizione anonima di metà classifica, a 4 punti dall'ultimo posto play-off. Varese farà di tutto per mantenere il fattore campo dalla sua parte.